Ma intanto per me è un onore e un privilegio davvero dare il benvenuto su RBE a Fabio Geda. Ciao Fabio, buongiorno. Ciao, buongiorno a voi, grazie per l'invito. E intanto grazie a te per aver accettato questo nostro invito a parlare di un libro che quelli bravi dicono di un libro prezioso, un libro necessario, un libro che contribuisce quantomeno a colmare un po' un'ignoranza molto diffusa, che è un'ignoranza di cui tu parli all'inizio anche di questo libro e che ci serve anche per focalizzare bene un tema che è la varianza di genere. Intanto per chi ci guarda sul canale 87 del Digitale Terrestre, ma anche se ci seguite in streaming sul nostro sito rbe.it, questa è la copertina di Song of Myself di Fabio Geda, Un viaggio nella varianza di genere pubblicato da Feltrinelli da pochissimi giorni, il 5 marzo se non sbaglio. Intanto voglio partire dalle sergo Fabio perché insomma mi contraddico, ebbene mi contraddico, sono grande, contengo moltitudini, che è insomma una citazione da Song of Myself di Walt Whitman perché parliamo di moltitudini molto spesso dentro le persone, ma insomma cominciamo dall'inizio, insomma da dove parte l'idea di scrivere questo libro? Fabio. Ma guarda, anzitutto parte dal caso, da un incontro come sempre, dalla mia curiosità, è successo tre anni fa che l'ambulatorio sulla varianza di genere di Regina Margherita, che è l'ospedale infantile di Torino, mi chiamasse perché avevano organizzato un laboratorio di arte e terapia attorno a un mio romanzo precedente e avevano fatto tutto un lavoro e quindi mi avevano chiesto di andare a incontrarli. Io con piacere sono andato a incontrarli, ma nel momento in cui sono entrato in contatto con l'ambulatorio sulla varianza mi sono reso conto di non saperne quasi nulla e quindi ho fatto amicizia con loro, con i ragazzi, con l'equip, alcuni genitori, ho cominciato a leggere, li ho invitati al salone del libro quando ero consulente a presentare un altro libro che è un memoir di una madre che scriveva una lunga lettera a sua figlia trans e mi sono reso conto che la mia ignoranza era l'ignoranza di tante altre persone e quindi ho pensato io con loro e con Feltrinelli che forse aggiungere un altro tassello narrativo al racconto della varianza di genere potesse essere utile. Potesse essere utile parlare della varianza di genere ma soprattutto come tu scrivi parlare di più e meglio di varianza di genere perché insomma mi viene innanzitutto da dire che se ne parla diciamo in maniera probabilmente anche volutamente distratta ma anche molto molto male diciamo infarcendo anche queste parole questi ragionamenti insomma di quella ignoranza di cui parlavamo poco fa insomma sgombriamo il campo anche da questo punto di vista perché bisogna fare i conti e soprattutto le persone che vivono come dire questi passaggi ragazzi, ragazze insomma poi parleremo anche del linguaggio perché la lingua è fondamentale in questo lavoro ma anche dei genitori intorno ad una come posso dire ad una realtà per la quale è impossibile ormai girare la testa dall'altra parte no Fabio? Ma guarda se ne parla in modo ideologico soprattutto è infarcito di notizie false superficiali, paure, esorcismi ma questo riguarda tutto il discorso sesso affettivo in Italia non soltanto la varianza di genere il problema è che siamo tendenzialmente un paese sessofobico dove siamo paradossalmente più disposti a sopportare quel soft porn dei programmi televisivi serali le pubblicità sessiste le donne seminude sdraiate sulle macchine cioè quello non ci dà molto fastidio in fondo poi però quando dobbiamo parlare scientificamente biologicamente antropologicamente di educazione sessuale ed educazione l'affettività allora no di questo devono occuparsi le famiglie peccato che poi la maggior parte delle famiglie a loro volta non sono state educate e quindi genitori come dire genitori ignoranti non possono fare altro che trasmettere ignoranza e quindi in questo senso bisogna che lo Stato intervenga che le istituzioni si facciano carico anche di questo di questo passaggio perché poi di ragazzi con varianza nelle nostre scuole sono sono piene di varianza di genere ma anche ovviamente appartenenti alla galassia alla galassia LGBTQ plus in generale e noi continuiamo a essere una società ripeto ignorante e quindi poco in grado di fare spazio alle moltitudini che queste persone ci pongono davanti agli occhi e si parla di insomma c'è questo lavoro anche dentro il libro in cui c'è da marcare una differenza tra sesso biologico identità di genere orientamento sessuale mi ha colpito molto questa riflessione che per alcuni al nostro ascolto io spero insomma può essere scontata a me ha colpito molto che l'identità di genere non dipende dai genitali ma ha a che fare con la percezione di sé con il cervello c'è molto cervello anche dentro questi racconti questi incontri che tu fai c'è una grande insomma un grande lavoro anche per la rappresentazione di sé no Fabio dentro questo lavoro che cosa ti rimane diciamo dentro dopo questo questo lungo lavoro che insomma immagino continuerai a portare avanti anche nel corso dei prossimi dei prossimi mesi Fabio ma cosa mi rimane da un lato mi rimane la voglia di di approfondire perché è un argomento che essendo stato un argomento stigmatizzato un argomento tabù ovviamente è un argomento poco poco studiato poco discusso ma da me come dire no anzitutto io mi sono trovato a 50 anni a capire che io in fondo di identità sessuale non sapevo nulla quello che dicevi tu del fatto che l'identità sessuale sia composta da quattro variabili no il sesso biologico l'identità di genere l'orientamento sessuale e il ruolo di genere che l'identità sessuale sia uno spettro e non sia binaria certo non siamo solo maschi femmine etero cis omo ok trans cioè siamo 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 come dire questi l'identità sessuale crea una è una mappa no una mappa di un territorio molto vasto e ognuno di noi in quella mappa si colloca in un punto differente ora questa cosa qui già per me è stata una piccola deflagrazione no nel cervello perché sono stato educato in un mondo in un mondo binario o eri così o eri cosà e le possibilità erano giusto un paio mentre invece sono molte di più quindi io anzitutto come dire ho voglia di continuare a capire studiare parlare e per quello che posso mi piace far discutere e quindi proverò anche a continuare a raccontare quello che nel frattempo scopro tu scrivi anche nel tuo libro che da sempre hai una grande passione per le soglie per i confini anche questa definizione mi piace molto ed è insomma questo libro come altri contributi anche libri film serie tv che tu suggerisci anche di recuperare servono in realtà a comporre una sorta di mosaico rispetto a quest'altra definizione interessante una rivoluzione da raccontare intanto va raccontata questa rivoluzione perché è di questo che stiamo parlando evidentemente molto spesso anche le cosiddette centrali educative i mezzi di informazione c'è una bellissima parte interessante anche su come i mass media raccontano anche queste cose qui è una rivoluzione che va raccontata soprattutto con grande puntualità basta stare ad ascoltare basta essere sensibili dice anche da qualche altra parte o lo dice qualcuno dei tuoi protagonisti no Fabio ma sicuramente l'ascolto è molto importante e c'è un certo rifiuto da parte di molte persone no all'ascolto e all'incontro ma all'incontro e all'ascolto di tutto ciò che è ai margini del campo visivo quello che è mainstream e che ci arriva in faccia la gran parte della popolazione lo accoglie e lo riceve quello che è ai margini no che si tratti di flussi migratori che si tratti di varianza di genere che si tratti di culture e altre o di visioni diversi alternative del mondo ecco quello alla maggior parte della popolazione per la maggior parte della popolazione quei territori restano restano inesplorati e quindi il mio compito è provare a illuminarli no un po' con la luce della letteratura insomma io uso la lingua e la letteratura come una una torcia ok io vado in giro con questa torcia e provo a illuminare quello che per qualche motivo resta resta in ombra mi colpisce molto la forza delle persone che hai incontrato sia ragazzi ragazze ma anche i genitori rispetto alla al diritto fondamentale all'autodeterminazione quel io sono io è meraviglioso insomma senza dover raccontare ogni volta insomma in che fase sono chi sono cosa sono però mi colpisce anche questo emerge spesso dentro il tuo libro attraverso questi incontri che hai realizzato al Regina Margherita di Torino questa sensazione di costante pericolo in cui si sentono insomma i ragazzi che lo dicono insomma non hanno timore a raccontarsi rispetto a questa sensazione di pericolo e tu insomma ci lanci anche una domanda che è anche abbastanza preoccupante cioè di cosa stiamo parlando è possibile che ci si debba sentire in pericolo rispetto diciamo a ciò che si è o si pensa diciamo di essere no Fabio ma guarda l'omotransfobia evidentemente è ancora pervasiva nel nostro paese e soprattutto in certi periodi periodi storici in cui una certa politica soffia soffia su quel fuoco come dire gli atti di di odio e di violenza nei confronti delle persone che appartengono alla galassia e lgbtq plus aumentano in maniera importante per molti di loro la vita è cosparsa no è impregnata di costante timore non sai mai da dove possa arrivarti lo dice Iaric che è uno dei ragazzi trans con cui ho chiacchierato in questa esperienza dice tu ti muovi tu ti svegli la mattina e non sai mai quel giorno cosa ti capiterà no non sai mai da che parte potrà arrivarti un attacco ma questa è come dire la punta dell'iceberg in realtà io mi chiedo come mi chiedo anche nel libro se è possibile che nel 2024 noi come dire nelle nostre democrazie occidentali si debba ancora ad esempio parlare di coming out per la comunità lgbtq plus cioè perché arriverà il giorno e arriverà il giorno che così come non esiste un coming out eterosessuale o cisgender no non è che un giorno noi ci siamo svegliati e vi ho detto ragazzi devo dirvi questa cosa sono eterosessuale no cioè arriverà un giorno in cui non ci sarà bisogno di dire sono omosessuale o sono trans è la tua vita voglio dire vivida no cioè non è che devi comunicarlo all'universo devi essere chi sei rispettando gli altri no da buon cittadino vivendo la tua privacy la tua la tua sessualità nel tuo modo ma ma perché come dire ci deve essere no una cosa normale e una cosa straordinaria che invece deve essere comunicata e su cui bisogna infarcire epiche no di qualunque tipo cioè insomma siamo ancora molto indietro però guarda io quello di cui mi rendo conto è che la vita è sempre avanti no cioè la vita è sempre dieci passi avanti alla politica e alla cultura e lentamente la politica e la cultura raggiungeranno la vita ma infatti poi insomma è evidente tu parli anche in alcuni passaggi anche del controllo dei corpi da parte insomma del potere costituito che insomma serve a diciamo a gestire meglio dal suo punto di vista come dire la società ma come hai appena detto insomma la vita è sempre anni luce avanti rispetto a tutto questo abbiamo ancora qualche minuto perché volevo farti ancora due domande una rispetto anche ai genitori perché tu anche in un'intervista che ho recuperato in questi giorni dici mi sento di stare molto accanto ai genitori che in alcuni casi in tanti casi hanno davvero fatto una rivoluzione dentro se stessi per provare a capire cosa sta succedendo ai propri figli cosa vivono i propri figli e questo grande coraggio viene fuori anche dai racconti di alcuni genitori e poi anche sulla lingua perché insomma siamo partiti da lì è importante anche trovare un terreno comune rispetto al linguaggio a come diciamo nominare questo mondo no Fabio allora per quanto riguarda i genitori la questione è anche generazionale io pensavo di andare a fare un lavoro sugli adolescenti con gli adolescenti ma devo dire che nel momento in cui poi mi sono trovato a fare gli incontri di gruppo con i genitori di questi ragazzi e io ho empatizzato fortemente con loro e ho empatizzato e ho empatizzato fortemente con loro perché devo dire tra l'altro loro mi hanno molto commosso io ho trovato persone straordinarie persone che di nuovo essendo state educate nell'ignoranza no e poi nel momento in cui a casa è esplosa questa bomba atomica del figlio della figlia che a un certo punto dice guarda io biologicamente sono così ma come dal punto di vista dell'identità di genere mi sento altro da come tu mi vedi cioè capisci che per uno che non ha mai neanche sfiorato un qualche tipo di educazione sesso affettiva perché la sua vita non l'ha portato ad approfondire e le istituzioni non si sono fatti carico della loro responsabilità di educare no i cittadini e le cittadine questa cosa qui ed è flagrante e ho incontrato genitori invece straordinari che si sono messi in discussione che hanno studiato e che soprattutto anche non capendo comunque hanno messo al centro la felicità la serenità e il diritto dei figli ad autodeterminarsi e questa cosa qua io l'ho trovata straordinaria ovviamente non ci sono solo quei genitori lì e lo sappiamo perché quelli sono la parte migliore perché poi ci sono tutti quelli che invece rifiutano il coming out dei figli che li allontanano che vogliono curarli no come dire e e e come dire al al peggio non c'è non c'è mai fine detto questo poi la questione della lingua che io ho usato nel libro perché la scrittura ti dà questa questo tempo lento di provare a pensare alle parole che usi e allora ad esempio ho provato a giocare anche con lo schwa no per significare il gruppo degli adolescenti con varianza del regina perché mi sembrava che quel nuovo escamotage narrativo potesse essere interessante da sfruttare in un contesto in cui effettivamente tu non hai chiarezza e contezza dell'identità di genere e delle persone a cui ti stai rivolgendo insomma è un lungo percorso io l'ho preso con il giusto grado di serietà e credo anche con il giusto grado di leggerezza il giusto grado di leggerezza dentro un libro come dire di grande però densità e devo dire insomma ti ringrazio anche ufficialmente insomma per averlo scritto perché ci aiuta molto diciamo ad entrare dentro queste moltitudini diventerà ci sta per uscire a breve anche il podcast di questo Song of Myself un viaggio nella varianza di genere di Fabio Geda pubblicato da Feltrinelli Fabio siamo alla fine di questa conversazione ti ringrazio davvero molto per essere stato qui con noi oggi grazie ancora e buona giornata a presto spero grazie a te e a tutta la redazione alla radio grazie grazie mille intanto allora noi ci salutiamo siamo in coda la settimana e noi ci vediamo lunedì sempre qui su RBE sempre ad almeno due pagine al giorno a partire dalle 10 ciao a tutti grazie a tutti